Un guscio che si schiude, una nuova vita che inizia, ma anche tanti esemplari che il cammino lo riprendono. Scenario di quello che, dagli esperti del settore, viene definito uno spettacolo della natura, è sempre la spiaggia, il mare di San Primo a Pollica. Nei giorni scorsi la nascita di ben 112 tartarughe della specie Carretta Carretta, ieri la ripresa del largo per 10 testuggini, accolte e riabilitate dopo essere state ritrovate malconce dal centro di recupero della stazione zoologica Anton Dorn di Napoli. Dopo le cure, dunque, sono ritornate in forza, pronte per il suggestivo ritorno nel loro habitat marino naturale. L'operazione, svolta congiuntamente dalla stazione zoologica partenopea e dal personale del Corpo Forestale dello Stato di Vallo della Lucania, ha l'obiettivo di caratterizzare la presenza della tartaruga marina in campagna utilizzando gli habitat costieri della regione. Due esemplari, hanno comunicato gli addetti all'attività di salvaguardia ambientale, sono stati dotati di strumenti di telemetria al fine di conoscere l'esatta posizione del comportamento delle tartarughe, una volta reintrodotte in mare, importante per monitorare la specie sempre più minacciata d'estinzione. La tartaruga Carretta Carretta è sì la specie più comune del Mediterraneo, ma è fortemente minacciato in tutto il bacino e ormai al limite dell'estinzione nelle acque territoriali italiane a causa dell'inquinamento marino e dalla riduzione degli habitat di nidificazione provocato dal continuo disturbo antropico dovuto al turismo balneare e dagli incidenti causati dalle reti a strascico e da altri sistemi di pesca invasivi. La liberazione ha fatto seguito alla tavola rotonda le tartarughe marine nel Cilento che si è tenuta presso il Museo Vivo del Mare di Pioppi. Durante l'incontro, a più voci, è stato presentato anche il progetto di allestimento di una sezione sulle tartarughe marine all'interno del Museo Cilentano e l'intenzione di quest'ultimo di diventare punto di riferimento sul territorio per il primo intervento e l'informazione sul mondo delle tartarughe marine.